Grazie a tutti. Quali sono gli elementi che possono ispirare o far pensare che valga la pena di prendere un'opera cinematografica e portarla in teatro? Dei racconti che emozionino e che suscitino dei punti interrogativi in chi viene ad ascoltarci. Questo mi ha interessato una pura formalità perché è un lungo interrogatorio, come si dice in una stazione di polizia, piccole domande, una pura formalità. Un lungo interrogatorio in cui un uomo che è commissario cerca di far capire che cosa ha nascosto dentro di sé un altro uomo, che in questo caso è un grande scrittore di nome Omoff interpretato da Roberto Sturmo. La cosa mi ha colpito perché io anni fa avevo fatto una riduzione del delitto e castigo di Dostoevsky, dove anche lì c'era Porfiri che era praticamente un magistrato che cercava di fare, pur avendo tutte le prove in mano, ma voleva che confessasse Raskolnikov, un delitto che aveva compiuto, con un ascia aveva ucciso un'usuraia, e voleva che fosse lui stesso a ribellare questo delitto, questo grande problema che aveva nascosto dentro di sé. Quindi la cosa che mi ha colpito è che un uomo aiuta un altro uomo a capire la vita. Lo spettacolo sta avendo un buon riscontro a parte il pubblico? Sì, è il secondo anno che lo riprendiamo, devo dire che è stato uno degli ultimi spettacoli della nostra compagnia che ha più aggressività, emozionante nei confronti del pubblico. Allora, visto che abbiamo l'occasione di poter scambiare quattro chiacchiere con Glauco Mauri, vogliamo citare un paio di film, La Cine è vicina e un altro film Profondo Rosso, con due registi molto diversi tra di loro. Come ricorda queste due esperienze? L'esperienza, La Cine è vicina, praticamente il primo film che facevo con Bellocchio, che non capisco nemmeno perché mi sia venuto a trovare, perché lui era il secondo film, ed è stata un'esperienza bellissima, tra l'altro il film ha vinto il premio della critica a Venezia. E l'altro, Profondo Rosso, è un film che ho fatto 500 volte l'Reilly, l'ho fatto più di 450 volte il Macbeth, di Shakespeare, ho fatto tante altre cose, sono più conosciuto per Profondo Rosso che per altre cose. E Profondo Rosso è stato molto divertente perché ho conosciuto una persona umanamente straordinaria, Guadari Argento. Grazie e bocca al lupo, se si può dire a teatro. Grazie, grazie a bocca.